Il 2018 l'anno nero dei consumatori di sigarette elettroniche. Dal 1 gennaio scorso, infatti, svampare costa molto di P, dopo che i liquidi per le ricariche sono passati sotto il controllo dei monopoli di Stato. Cos come accade G per il tabacco e i superalcolici. In particolare, state imposta una tassa fissa di 0.37 euro P va per ogni millimetro di ricarica. Con o senza nicotina, in altre parole, gli svampatori pagheranno ora più o meno 5 euro per un flacone da 10 mm che, in genere, dura 2-3 giorni. I motivi della stretta la decisione. Si legge sul sole 24 ore. Era stata presa a dicembre dello scorso anno, quando la Commissione della Camera dei Deputati aveva approvato un emendamento del governo alla legge di bilancio, l'obiettivo contrastare l'evasione fiscale connessa al mercato illegale del fumo elettronico, e garantire gli adeguati controlli sul fronte sanitario dei liquidi venduti. Appena prima, con il decreto fiscale, era stato introdotto anche il divieto totale di vendita online dei liquidi introducendo una sanzione fino a 40.000 euro per i trasgressori. I siti che hanno continuato a farlo sono stati oscurati dai monopoli. Sarebbero illegali anche gli acquisti sui siti stranieri. Ma non ci si rassegna al nuovo scenario e ci si fanno pochi scruppoli sulla provenienza della merce. A regime, inoltre, le sigarette elettroniche potranno essere vendute solo nelle tabaccherie e nelle rivendite. Autorizzate, da 20 a 450 euro per gli eccipienti da aprile sarà anche peggio. Il regolamento dei monopoli, riporta il Corriere della Sera. Stabilire i criteri di applicazione dell'imposta anche ai vari prodotti utilizzati dagli svampatori. per la produzione dei liquidi da inalare. E poi c'è la questione dei due eccipienti. Glicerina e glicerolo, che costano e costeranno meno di 20 euro al litro. Ma etichettati come liquido inalabile. Domani, ne costeranno 450 solo di tasse. Si tratta di prodotti che vengono venduti anche in farmacia e in erboristeria per preparazioni alimentari e cosmetiche. Ma in questi casi non sono soggetti a tale tipo di tassazione. 30.000 persone a rischio secondo il post. Le stime parlano di 2.000 negozi e 30.000 persone impiegate nel settore delle sigarette elettroniche, che potrebbero subire conseguenze economiche gravi dalle nuove tassazioni. Altro su MSN. La sigaretta. Mediaset. Sponsorizzato. Maggiore maggiore. Scopri come condividere una sola sottoscrizione Office 365 su 5 PC e 5 tablet. Ora in omaggio due mesi gratis. Leggi i dettagli e scarica subito. Grazie a tutti.